Marco Manzini, 62 anni, 10 anni fa ci fu un grave incidente, ma Marco Manzini è la dimostrazione di come si può uscire da queste situazioni in maniera vincente. Campione italiano di Taekwondo Paralimpico, premiato dalla Regione Marche inizio dicembre. Marco, una grande soddisfazione. C'è molto perché i sacrifici sono immessi, però io dentro me ho la voglia di arrivare. La disabilità non è fisica, è solo mentale. La forza umana, mentale e di volontà è immessa. L'importante della vita è credere in se stessi, molto, 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 perché noi tutti siamo forti. L'importante è muccarsi male e andare avanti. Marco, tu hai vinto diversi titoli, questo non è il primo, ormai sei un campione nazionale riconosciuto a diversi livelli. Ma io, campione, mi sento solo nella vita perché avevo tutta la morte, la parassi, perché quando mi hai detto Marco Manzini l'attacca e possibilità, sei da rotella vita, dopo nove mesi intubati, sei da te, non mi avevo manco le dita, mi sono alzato da solo, di mia volontà. Ho giustato solo me stesso, perché il potere della tua vita sei te. Tu sei stato protagonista di una vicenda che è stata ripresa anche a livello nazionale, perché al tuo risveglio in realtà ha contribuito anche il grande campione del mondo, Dino Zoff. Sì, lui, lo sento spessissimo, mi vengono a trovare quando ero in tiro con la squadra italiana per l'Olimpia a Roma, a Quaccettosa, nel villaggio olimpico. E' venuto, è stato qui con noi, ha fatto le foto di tutti, mi ha dato molti stimoli, specialmente anche adesso, prima della gara. Io l'ho chiamato perché ero un po' nervoso e lui mi ha detto Marco, tranquillo, fai quello che sai fare, non pensare al risultato, non pensare a quello che diceva il mio maestro, lo confrontare con il suo prima maestro. Io ero riconcentrato, ho pensato solo a me, nel risultato agli avversari in mezzo, e non pensare alla gara molto prima della gara. Se lo arrivi in gara, mentalmente è sfinito. Come si allena un campione come questo in uno sport che comunque è così difficile e che va interpretato in una maniera del tutto personale? Dunque, il tipo di allenamento è molto sulla propria eccettiva, quindi sullo stimolare gli equilibri, quindi ci alleniamo anche a volte bendati e cerchiamo proprio di andare a lavorare sullo specifico, oltre che ovviamente sulla tecnica, perché poi la tecnica è quella che poi in gara lui deve rappresentare. Più di tutti noi il lavoro che facciamo è anche molte volte sull'equilibrio, ma anche sul fattore psicologico, perché con Marco bisogna lavorare molto, deve essere stimolato molto a livello psicologico. E quello che noi vogliamo fare con il Paro Olimpico, che la federazione fa con il Paro Olimpico, tutte le federazioni, è proprio quello. Dare una possibilità a tutti quelli che hanno avuto un problema, un infortunio grave, una disabilità grave, dargli la possibilità di mettersi in gioco e di avere uno stimolo e un obiettivo per cui andare avanti e lavorare. Ciao ragazzi e buon Natale a tutti e passate la metà, sorridete il doppio.